Complimenti sei papà, ci puoi pensare. Sai l'amore questo fa, a chi dove te passerà, circa dieci mesi fa, tu lasciasti la città, per andare sul suo suonare. E sei tornato, tu già papà, corri adesso a visitar la mia mamma. A vedere se il tuo rete ti sogna già, e l'ostetrica dirà. Lei non sembra il suo papà. Le consiglio di chiamarlo Mustafa. Istafa. Ciao. 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 Ciao.